da quando sono entrato nel mondo assicurativo circa sei anni fa molte cose sono cambiate in questo breve lasso di tempo ecco quando sono arrivato quando si pensava alle assicurazioni si pensava più a perdita di tempo soldi che che vanno una scocciatura ecco in sei anni diciamo che la percezione verso le assicurazioni è cambiata ed è cambiata anche grazie al cambiamento di mindset delle assicurazioni stesse e in che cosa consisteva prima di tutto il mindset delle assicurazioni all'inizio ecco il mindset è come sappiamo tutti lo stato mentale per cui un individuo organizza le proprie decisioni organizza le proprie attività abituali in questo caso l'assicuratore organizzava il suo lavoro con un obiettivo ben preciso ovvero quello di vendere più polizze possibili perché perché il suo profitto era proprio dato da più da quante più persone riusciva a portare nel suo portafoglio a quante più persone riusciva a vendere polizze ecco con l'arrivo poi della tecnologia sono arrivati in scena anche i comparatori e altri attori che hanno cominciato a vendere polizze grazie a nuovi strumenti digitali come i comparatori quindi a vendere più velocemente e meglio quindi gli assicuratori si sono trovati poi a dover cambiare un po quello che era il loro modo di lavorare il loro modello di business quindi da un prodotto centric si è passati a una offerta customer centric quindi si è dovuto anche cambiare quello che è il mindset dell'assicuratore quindi non solo vendere polizze ma conquistare il cliente attraverso una proposta 360 gradi che era appunto una proposta non solo commerciale ma anche una proposta di vendere qualcosa che fosse più della semplice assicurazione vendere una consulenza ecco quindi gli assicuratori hanno cominciato a diventare dei partner del cliente e per diventare partner del cliente bisogna che il cliente si fidi di te e affinché il cliente si fidi di te tu devi dargli qualcosa in più qualcosa che le tecnologie non ti possono dare ovvero una consulenza basata sull'empatia ecco quindi l'assicuratore ha cambiato il proprio mindset si è avvicinato ai bisogni del cliente ha cercato prima di tutto di capire quali sono i suoi bisogni e questo lo ha fatto anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie che gli permettono di avere dei dati già lavorati e quindi l'assicuratore ha in questo modo la possibilità di conoscere appieno quelli che sono i bisogni dei clienti e dare a lui non solo un prodotto fatto su misura ma anche una sorta di consulenza che va verso il proprio consiglio quindi proprio diventare partner del cliente significa affiancarlo in questa decisione e allora siamo arrivati al punto in cui l'assicuratore non è più un venditore di polizze ma assume quello che è il ruolo sociale che ha sempre avuto l'assicuratore sin dal suo inizio e quindi l'assicuratore adesso per vincere anche la concorrenza dei comparatori o comunque dei strumenti digitali che vendono polizze ha la possibilità di conquistare il cliente con l'empatia con la professionalità e soprattutto con la consulenza